Katia Ricciarelli continua ad essere al centro delle critiche e delle polemiche di questo grande fratello VIP6. Durante il pomeriggio di oggi, a poche ore dalla diretta della nuova puntata del GFVIP, tutti i concorrenti si trovavano rinchiusi in camera da letto. Katia si trovava sul letto assieme a Manuel ed Aldo, quando ad un certo punto è arrivata la giovane principessina Selassie che sta vivendo la sua love story con il nuotatore. Lulù indossava un pantaloncino abbastanza corto, che le copriva il lato B e metteva in evidenza le sue forme, un outfit che è stato duramente criticato da Katia, la quale non si è fatta problemi a lanciare la sua frecciatina al vetriolo nei confronti della ragazza. Dopo dice che le mutande le vanno su, se ti tiri i pantaloni così su. Io se fosse il tuo ragazzo ti darei tante legnate, guarda. Ha sbottato Katia contro Lulu criticando aspramente il suo modo di vestirsi nella casa del grande fratello Vip6. Di sicuro non è la prima volta che Katia Ricciarelli compie degli scivoloni simili all'interno della casa del GFVIP, dato che già in passato si è resa protagonista di gaffa sfondo omofobo che non sono passate inosservate, soprattutto sul web e sui social. Cosa succederà questa volta? Lulu durante il confronto con Katia non sembrava essersela presa più di tanto per le parole della cantante lirica, considerata una delle super protagoniste di questo GFVIP. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.